Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus Io sono Ser, benvenuti nel mio canale C'è stato l'ennesimo aggiornamento del client Non mi chiedete che cos'è, perché non l'ho letto Daily da Megasata Con Magdalene Questo è uno speed up e lo sappiamo Quanto meno sappiamo qual è lo speed up La cap e speed up sappiamo Ok, due pilole positive le conosciamo Il cuore ce lo teniamo a buono Ok Ah, qui di fianco c'è la stanza segreta Vediamo se ci dà altre bombe Non ci dà altre bombe Un la cap? Niente Guardiamoci anche l'ultima stanza Ok, niente di che Ci speriamo che ci dia una chiave Una bomba Moneta Va bene Ricordiamoci Ci sono due cuore blu in giro Vediamo se riusciamo intanto a battere il boss Non è così scontato Esatto Esatto Non è così scontato Sarebbe un sacco interessante Interessante HP in più Ok Prendiamoci cuore blu Abbiamo un sacco di HP Peccato non sapere che cosa è questa Probabile che fosse solo un cuore blu aggiuntivo Vediamo che cosa Qua è molto interessante Ma dobbiamo avere o bombe dorate O roba molto simile Non ci interessa Il cuoricino Dove può essere la stanza degli oggetti Là c'è un cuore Là c'è una chiave Cerchiamo di prendere meno danni possibile Qui Se Dermit mi può essere Oh Attenzione La possibilità di volare e prendere tutti quei bellissimi oggetti E ci siamo risparmiati una chiave Soldo Ce la siamo risparmiati per sempre La chiave Magic mushroom Ottimo oggetto Vediamo se per caso Nope Niente caso Questa l'abbiamo già vista Andiamo di qua Non c'è niente interessante Ok Questo sparava Questino sparano Quello spara Questo è molto interessante Abbiamo detto che ci interessava cosa? Mettere una bomba qua Ci interessa altro? Non credo Boss Dai Sei già a metà vita Su Bravo Ce lo teniamo Col cuore Mi sembra perfetto Adesso Non male Servono 710 bombe Per ragazzi Oh merda Beh adesso bombe c'è l'opera C'è da dire questo Che è che fa sta roba? Quando mi... Non lo so Ha dato del danno A caso Massi Più campioni Ma molto più danno Niente di che Allora Allora Ok Ciao Non sei durato un granché Questo può essere utile Cazzo No C'ho il coltello Non mi interessi Certo Direi a Nightcat A Deadcat Non mi interessi Però col coltello Non sinergizza Gappi Che brutta Era quasi meglio Prima Pazzo Restocco Lo vorrei però Restocco Vediamo se arriviamo a 15 E a 15 Ci siamo arrivati Senza indolgiare oltre Ci buttiamo lì Prendiamo le stock Che ci dà Un bel calcordo Che non mi ricordo Che fa Ma Devo essere Quasi in punto di morte Perché funzioni Se non erro Non ho ben capito Che cosa sia successo C'è un bel calcordo C'è un metal tunnel Che fa sempre comodo Chubb fa il suo Chissà perché Chissà perché Spawnata di lato Forse è morto Merda L'ho presa Cos'è sta roba Cos'è sta roba Quanto è fastidioso Uccidere Le cacchine Lo prendo Lo prendo Non ci faccio niente Però lo prendo È proprio impossibile Con Magdalene Ecco tutti Sti cuori Soprattutto Ok Blankard Quasi quasi la preferisco Anche se non ho visto Moltissime Carte Stimsels Ok Uno steamsel Così a caso Non è male Non ho ben capito Chi fa triggerare L'amicizia Dei Ride Rage Velocità Finalmente Abbiamo un personaggio Veloce Mani Le mani di mamma Ah no A caso Triggera Quindi party time È un oggetto Molto randomico Qui c'è niente Qui c'è niente Si è tosta E dai Dove sono gli altri Tu che sia la benvenuta Nella casa blu Busso a tre Addirittura Tutti così Poco Costano Aspetta un attimo Questa può essere interessante The world È molto interessante Perché adesso Faccio così E so che sto andando Dalla parte giusta Senza spawnare ragni Bravissimi Ah da proprio effetti Randomici Eh allora È abbastanza interessante In realtà Dove è uscito Preso HP ulteriori Lo smettiamo Lo smettiamo di prendere Danno a caso Ok Un the world Subito così Sappiamo dove andare Ci abbiamo anche Subito di qua Oh Oh Ghost baby No Scenderei prima o poi No Morti Guarda Sicuramente Prenderò Isaac La carta Posso far così Giusto È una vita aggiuntiva Alla fine Una vita aggiuntiva Che non durerà niente Ma è una vita aggiuntiva Allora Boss Boss Di qua Quanti Quanto c'ho C'ho tanto In realtà Dove sono andati Va benissimo Peccato non avere un famiglio Che usufruisce Di tutti questi cuori Dove è l'ultimo Ok Anche tu Isaac Onesto No Money was power No 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 Porca troia Devo prendere un oggetto E non ne voglio nessuno Cazzo Un aspetale Un aspetale Un aspetale Un aspetale Andar via L'altro chi è? Mega fatti Non tenere il corto? Vai, vieni Float Merda Non ho aspettato Per fortuna i due che sparano A muzzo subito mi hai cazzato Sangue Stai attento No, il cuore Buongiorno 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 Cazzo C'è l'altro Buongiorno 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 Ah, infatti Ma ricordavo qua Io Guarda Qui non c'è niente No Cuore in più Questo È l'ultimo piano In cui posso Aspetta un attimo Fammi capire una cosa C'è un po' di tempo Effettivamente Bomba per bomba Di solito Ha senso Non quando c'hai fretta Però Cazzo Questa non ci voleva È brutta C'è un po' di tempo One makes sure Rubber Mi ci vorrebbe un De Aerofant Tivo Il Cerofant Ok Non so manco Come si energizza Se si energizza Se Sembra che si Fa anche un botto di danno Quanto c'ho? 11 La conosco Amnesia Perfetto Ok Abbiamo visto Tutta Mi ricordo Solo che Qua 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 siamo stati Ok Siamo partiti Da Qua Quindi andiamo giù Sì Beh Chiavi ne ho Una strafotte Ho visto C'è una Tilted Rock So che Sembra Sta Non me l'ho vista Quindi Visto Che Penso Di non Doverci Rivassare Sack of Sacks Dai Faccio vedere Che c'è dentro Sto scatola Non c'è dentro Lo userò Adesso E poi lo Riuso Così Siamo tranquilli Già Già il void Subito Così Fa un po' Spreci Scendiamo E vediamo Se ci porta Bueno Chiavi Ne abbiamo E ne usiamo Quello può essere utile Effettivamente In questo scontro Rainbow Magic Land Il tuo parco Divertimenti a Roma E no Pubblicità Meglio Infestation O meglio Serpent Kiss Credo Sei meglio Infestation Cazzo Box of friends E tanta roba Le batteri Anche Boh Prendiamo un po' Tutto Sti cazzi Vediamo pure Se tu ci dai qualcosa Sì Un ragnamico Perfetto Perfetto Ash Siamo tutti tuoi Esatto Esattamente Quello che volevo Siamo enormi No grossi Enormi Però Quello che cazzo È utile Sperando Non lo distrugga Appunto Questo Questo Devo distruggere No Non lo distrugga Perfetto Non lo distrugga Non lo distrugga Vai, dai Non è malaccio come scontro Guarda Muori Allora, ho preso un fottio di danni Però c'è anche da dire che Dobbiamo prendere questo Che Ci regala Sharp Lag Ah, perché non posso Non lo so, no Secondo me conviene questo a sto punto con Sharp Lag Nel The World la usiamo A casaccio Fatemi vedere Com'è fatto A sto punto ci visitiamo un po' di robe Scusa Toys Posso usare veramente tante volte No, prendo questo Come ne fa di saltare sti fuochi No, perché non li posso raggiungere Mi sono risposto da solo Bravissimo me Eh, ma una bella botta Qualcosa da dove Ando vai No, prendo questo ok poi i princess è sempre con noi a questo punto ci facciamo questa stanza mi sta bene un'altra i princess va benissimo vediamo qui che ci dici già finita la stanza perfetto quanto adoro questo oggetto quanto dai per di giorno non dovevo prenderlo però vabbè fa niente almeno vediamo anche l'altra stanza segreta beh potevo in realtà ho fatto una cazzata che vision potevo tenermelo nel prossimo piano potevo lasciarli a macerare ancora è nero ok grazie non eri veramente dovuto non ero veramente dovuto questo lo prendo eh ma però mi devi dare i screen perché sennò non cazzo ok ok la barrucca no ci ho provato questi erano belli tosti tu no oggettivamente che cosa sta l'epro sì no questo mi manca che è la lebra che è no mai nella vita questo sì perché è un aumento di danno passivo dove è l'altro ah non c'è più l'altro ok un po' di danno in più perché ce ne manca ok cazzo lo farei però mi pare che non dia punteggio aggiuntivo ahimè credo di sapere con assoluta certezza che non dà punteggio aggiuntivo è triste eh sapevo prima che era full health ma sarei tenuta che dici non serve ok c'è un altro oggettino qua e una moneta da raccogliere qua perfetto si può andare caro mega satana so cazzi tu te lo dico in modo che tu lo sappia ci sono Allora Vai dai Come run questa È abbastanza È abbastanza Non dico veloce ma 34 minuti comunque Per fare quello che abbiamo fatto Top 500 Anzi top 400 Attenzione Sto facendo comunque Ash Tutto insomma Boss rush Preso 5000 danni 5000 danni 5000 punti di danno E altri 4005 Tra penalità di tempo e di oggetti Vabbè quegli oggetti è indifferente L'exploration si potava fare molto meglio Perché ho saltato tanto all'inizio Non essendo forte E quindi insomma Ci sta Vabbè ragazzi Per questa puntata è tutto Ci si becca Alla prossima E vi saluto Tutti quanti Ciao a tutti ragazzi